Parliamo di volley, con la sua Conegliano ha vinto Scudetto e Supercoppa, è stata eletta miglior giocatrice del torneo. Conosciamo meglio Samantha Fabris, Maurizio Colantoni. Samantha Fabris, cosa significa successo per te? Vittoria, tanta roba. Cosa significa vincere con Conegliano? Ancora più roba, perché qua è veramente come stare a casa. La società ci dà tutto, abbiamo tutte cose che ci possono aiutare per fare vincere, non ci mai manca nulla. Abbiamo un staff meraviglioso, ragazze stupende, penso che possiamo puntare veramente in alto. Samantha Fabris, si sta togliendo qualche soddisfazione in questi ultimi anni? Sì, posso dire sì. I primi anni in Italia sono andati benissimo, adesso ultimamente sta andando molto bene e non ci fermiamo qua. Cosa significa giocare con un roster così importante? Per me, io sono orgogliosa che posso essere qua in questa squadra con questi buonissimi giocatrici di altissimo livello e di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Una parola su Daniele Santarelli, chi è? Meraviglioso. C'è una più cara amica in questa formazione a Rimoco? Siamo tutte come una, veramente. C'è tanti puzzle, diversi messi insieme, che viene un quadro perfetto. La cosa più importante per Samantha Fabris qual è? Famiglia. E poi lo sport? Sport, ovvio. Sono qua tutti i giorni, ci do tutto e voglio vincere ancora. Se ti dico nazionale italiana, tu che dici? Tanta roba. E la Croazia invece? Sarà tanta roba, speriamo. Sì. Sì. Sì.